Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video piccariccio, stavolta sono qua, ovvero da questa parte del letto, non vi dico dopo però vabbè i dettagli e volevo semplicemente fare un mini video di piacchera che poi lo so che diventa lungo e dirvi semplicemente che finalmente sono riuscita a fare video con questa belletta, con la tua camera, caro, non lo so dopo rifarli col telefono, ma con la camera, secondo me, almeno secondo me si vedono meglio e si capiscono meglio soprattutto comunque, niente, voi come stati piuttosto, io bene e nulla non so quando devo parlare ogni volta, non mi ricordo cosa devo dire, ma va bene lo stesso non credo di potercelo fare, ma ci provo in ogni caso già, e cosa devo dire di bello? nulla, che nel prossimo video farò un video dove vi faccio vedere come pulisco la mia camera non lo so se ce la posso fare, ma ci provo, sento questa fotocamera qua, ok? nulla, buona cena a tutte, adesso vado a caricare il video non so se avete visto le mie foto su Instagram se non lo fate, seguitemi su youtuber, nell'area trettino basso, 8 Instagram sarebbe, questo nickname, ok? di Instagram un bacio e cos'altro a dirvi? ho fatto tante belle cose, oggi tante belle cose, più che altro sono andata a restituire dei campioni per fare delle analisi per il mio stomaco e a breve vi farò sapere se casomai mi devono fare qualche cosa per lo stomaco, vi farò sapere come andrà a finire, non so se il bloggerò o altro, casomai vi terrò aggiornati, ok? niente, bene, a presto, un bacio, ciao! ah, ricordati di mettere like, commento e a presto, ciao, attivate la campanella, un bacio, ciao! allora, come ragazzi, secondo me devo lavar la faccia, non dico mi devo struccare, però per la pulizia viso, non la faccio proprio, chissà che mi lavo il viso, basta, mi ripreso cresco un po' e mi lavo anche i denti, quindi non mi scrivete stranezze nei commenti, perché io levo tutto, quindi grazie, ma anche no, ovviamente le parole a parte mi lavo i denti e metto solo quella della faccia, mentre ripieno un po', allora, per due, anzitutto mi lavo la faccio, se è possibile, perché qua non trovo, comunque per adesso il mio, bella detto, detergente, eccolo qua, questo, questo qua, della viscì, e ora mi la faccio, ovviamente le mani le ho lavate, tranquille, ho lavate le mani, vedete che facciamo il mio detergente? Eccolo qua! Eccolo qua! Adesso non faccio l'altro che lascio veramente attapparando senza sprofidare, vedete ragazze, aspettate perché così non mi si vede la mazza, infatti no, non mi si vede anche, però, no, grande no, perché la qualità è buona, però deve essere del video, però, io nel frattempo, voglio assaggiare, è bene, e metto la crema, la crema, sì, io la crema, quello che volete, non è nulla, 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 comunque come è stato, piuttosto, non richiede, perché tanto questi video, spezzatori di video, che vedete, ce la posso fare, non ho detto, comunque vabbè, dettagli, questi spezzatori di video, dove io vi parlo di video che ti dice, video skin care, li metto uniti, così andiamo bene, e l'altro se ne riesco, guarda la televisione, ma non l'ho detto, vediamo, magari avventurisco il video, per non capire cosa diciamo, come io ho la coperto, sono fantastici nostri, allora, a voi non ve prega niente, vero, vero, infatti, a voi non ve lo preferate meno, quindi tacco il video, un pezzo, comunque, vado a lavare i denti, e ci vediamo dopo, dai, allora, comunque, sta registrando, aspettate, sì, ok, sta registrando, scusate, ma devo controllare, se ci registra o meno, comunque, sì, mi ho lavato a penerenti, e non ce ne va beata, ma è satisporto, con i miei denti, ma è fortuna, ho anche controllato, comunque, volevo dirvi semplicemente, che, continueremo a utilizzare, non più il telefono, solo per, registrare i video, solo su Instagram, ma bensì, la fotocamera, per fare i video, su YouTube, qua su YouTube, ok, e niente, oddio, come ho detto YouTube, YouTube, vabbè, niente, era per dirvi semplicemente, che, finalmente, sto riuscendo a trovare il modo, di fare i video, non dico, professional, ma quasi, perché, ragazze, è importante, voi mi avete detto sempre, voi, voi che mi seguite alcuni, o alcune, anche, che è importante, molto, la qualità dei video, finalmente ho trovato la telecamera, non l'ho trovata, me l'ho dovuta comprare, perché era, mi sentivo, necessario di comprare, una fotocamera, come si deve, un tanto, spero che metta a fuoco, perché ci tengo, veramente, comunque, sì, ragazze, è bene che, abbia compratto questa fotocamera, per fare dei video, che si vedono, non dico benissimo, come in televisione, ma quasi, perché ci tengo, e voi sentiate bene, ma che vi vediate anche bene, soprattutto quando faccio i video, i TV, i vlog, le pulizie, quello e quell'altro, quindi, tanto di qualità, video, audio, immagine, eccetera, si senta al meglio, ok? In 4K, ancora non sono riuscita a trovarlo, una fotocamera, però, piano piano arriverà anche quella, al momento sfrutto questo, quando questa diventa vecchiotta, utilizzerò, una fotocamera, comprerò una fotocamera in 4K, ok? Per adesso mi voglio adattare a questa, mi basta una balza a questa, questa è una Canon, sì, è una Canon, la chiamo anche qua, mi stavo guardando così in aria, ma ho detto, se è scritto lì, perché allora devo pensare, mi devo, infatti è scritto lì, sì, è una Canon questa, non mi ricordo il modello, me lo metterò, casomale, in infobox, o ve lo faccio vedere in un altro video, a seguire a questo, ovvero, a seguire a questo, quando registro altri video, ve lo dirò in altri video, ok? E forse farò con una recensione su questa fotocamera, però non vi aspettate nulla di che, nulla di che, ci tengo a precisare, di non aspettarvi nulla di che, su questa recensione, di questa fotocamera, ok? Niente, a presto, anzi, a dopo, per intanto, il video lo lascio là. Grazie. 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 Grazie.